un saluto a tutti io sono antonio sono il direttore di questo canale e il rifondatore se così possiamo dire del marchio telepiù il video di oggi sarà un video strettamente breve e informativo dove vi comunicherò un'informazione che riguarderà il nostro gruppo bene se ci seguite su instagram e se ci seguite quasi youtube se non l'avete fatto ancora fatelo perché per voi non è niente ma per noi significa molto se quindi ci seguite avrete potuto vedere che su post comuni di youtube e sulle storie abbiamo annunciato che il derosa show è stato cancellato perché il derosa show è stato cancellato perché mister franz è stato cacciato dal gruppo di telepiù ora qui non vi sto a spiegare tutta la lore perché veramente non c'è da mettersi le mani nei capelli c'è da strapparsi i capelli quindi perciò vi dirò in breve che mister franz ha assunto un comportamento in primis infantile sgarbato e in professionale quindi perciò è stato cacciato dal gruppo e quindi perciò non ci sarà il derosa show non ci saranno programmi condotti da lui e non comparirà qui più in nessun video e i video dove ha prestato la voce sono ancora disponibili su youtube però la sua voce è stata alterata per ovvi motivi legali quindi perciò se volete se volete vedere quei video potete vedermi tranquillamente recuperarvi questi due video potete recuperarli tranquillamente con la sua voce alterata quindi perciò vi consiglio di iscrivervi al canale per non perdervi i futuri video e niente quindi di attivare anche la campanellina di seguirci su instagram e quindi che dire si si li vede sugli schermi tele più salve a tutti